In Campania i clan della Camorra sotterravano e bruciavano di nascosto, interravano sino a 18 metri e ora gli effetti di quel disastro li stanno pagando gli abitanti della zona. Portella Arena tutto invece, ma certamente il misfatto non è paragonabile a quello campano, avveniva alla luce del sole. Arrivavano, scaricavano, bruciavano e andavano via indisturbati. I cancelli di un impianto sequestrato e affidato a un custode giudiziario erano inspiegabilmente divelti. La segnalazione era già stata fatta dai vigili umani, ma inutilmente. Così le foto del comitato della nostra città non lasciano dubbi, come sui roghi, non lasciano dubbi le immagini del nostro cameraman girate ieri. I vigili hanno potenziato i controlli, ma adesso occorre indagare. La discarica di Portella Arena non è mai stata totalmente bonificata. Le analisi sul terreno sottostante negli anni avevano già messo in evidenza la presenza di percolato e inquinanti che con la pioggia rischiavano e rischiano di finire prima nelle falde acquifere e poi in mare.